Giulietta Alfa Romeo L'Alfa Romeo vi offre il Climate Control, la radio touchscreen, il cruise control e le luci a LED. La vettura monta dei cerchi in acciaio da 16 pollici e degli specchi retrovisori riscaldati e regolabili elettronicamente, business. Due punti questa versione ha un prezzo che parte dai 27.500 euro e vi propone i cerchi in lega da 16 pollici in sostituzione di quelli in acciaio. L'auto è dotata di fendinebbia, paraurti con modanature in colore argento, sensori di parcheggio posteriori, climate control bizona e schermo touch Renew Connect con navigatore satellitare e comandi vocali. Sport, si tratta del modello sportivo e ha un prezzo che parte dai 26.700 euro. Il veicolo monta i cerchi in lega da 18 pollici, le minigonne, l'assetto sportivo e il terminale di scarico maggiorato. L'interno è caratterizzato dalla presenza di sedili sportivi rivestiti con tessuto alcantara e sfoggia inserti carbon look, oltre ai consueti dettagli in pelle con cusciture rosse che sono un must nella maggior parte delle vetture di questo genere. Super, questa versione viene proposta allo stesso identico pezzo del modello sport, cioè 26.700 euro, è contraddistinta da un look raffinato che si avvicina maggiormente alla Giulietta Business. Acquistandola trovereste i seguenti optional. Cerchi in lega da 17 pollici, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, specchio, retrovisore interno elettrochromico e plancia con dettagli in antracite spazzolato, oltre ovviamente a quanto menzionato per la versione. Business, Launch Edition, il modello riprende la versione Super conferendogli una buona dose di sportività, il risultato è un'auto davvero bella che sa essere sia grintosa che elegante, una prerogativa che è sempre stata un cavallo di battaglia di Alfa Romeo. Il prezzo parte dai 28.200 euro, neppure alto se si considera la qualità offerta vi. I punti di forza della Giulietta Launch Edition sono i cerchi in lega da 18 pollici, le minigonne laterali, l'adozione dell'adaptive. Front-Ligate System con fari B-Zenon, i lavafari telescopici e la telecamera posteriore, potete inoltre disporre di un sistema car. Hi-Fi costruito in collaborazione con Alpine e con tecnologia Apple CarPlay, veloce, si tratta dell'eccellenza secondo Alfa Romeo. Punto e virgola la vettura è stata studiata per emozionare ed è curata nei minimi dettagli, ovviamente tutti sportivi. L'iniziativa di adottare interni in pelle con cuciture gialle al posto di quelle rosse è decisamente qualcosa di originale che rende la Giulietta Veloce un veicolo esclusivo, con il quale potete distinguervi nel migliore dei modi. Il suo prezzo parte dai 32.450 euro e comprende quanto segue, cerchi in lega da 18 pollici, freni Brembo con pinze di colore giallo, sensori di parcheggio, sensori di pioggia e crepuscolari, sedili in alcantara, neri con cuciture gialle, schermo touch Shren Uconnect con navigatore satellitare e comandi vocali. L'offerta Alfa Romeo è molto particolare e di base vi propone dei veicoli quasi personalizzati. La Giulietta Business sembra dedicata a chi ama la classe e la comodità di un buon sistema infotainment, il modello sport è essenziale e dedicato agli automobilisti più. Grintossi nella guida, la versione Long Edition e la Giulietta Veloce sembrano volervi stupire a tutti i costi, e senza dubbio ci possono riuscire. I motori dell'Alfa Romeo Giulietta. L'Alfa Romeo vi propone tre motorizzazioni, due diesel e una a benzina, 1,4 turbo, propulsore a benzina che sviluppa 120 cavalli. Punto e virgola 1,6 MJT, motore diesel da 120 cavalli, 2,0 MJT, questo modello è alimentato a gasolio e sviluppa 170 cavalli di potenza. Tutte le versioni dispongono di Alfa DNA, il selettore che tutti gli alfisti conoscono bene e che vi consente di scegliere fra tre differenti modi di guidare. La sigla significa Dynamic, Natural e All Weather, e sottolinea la possibilità di usufruire di tre livelli di potenza, dove l'ultimo è l'ideale in condizioni di asfalto bagnato o fondo civoloso. Potreste non apprezzare la scelta di sostituire sulla Giulietta veloce il propulsore a benzina da 220 CV con il 2,0 diesel MJT, ma l'Alfa ha dotato questo motore del cambio TCT robotizzato a doppia frizione, una soluzione che promette tanta ripresa e tanto divertimento. Le dimensioni dell'Alfa Romeo Giulietta. Giulietta misura 4,351 mm di lunghezza, 1,798 mm di larghezza, 1,465 mm di altezza. Queste dimensioni sono allineate con quelle tipiche del segmento C al quale appartiene il veicolo. L'auto non è generosissima nello spazio in abitacolo, mentre il suo ingombro non crea particolari problemi nella guida su strada. La Giulietta è particolarmente bassa in altezza, una scelta che favorisce l'aerodinamica, probabilmente non è un caso che il motore. 2,0 MJT consumi appena 4,6 litri ogni 100 km, nonostante abbia delle prestazioni di tutto rispetto. Trova la tua Alfa Romeo Giulietta usata sul nostro sito.